Si è aperta a Cortona la quattordicesima edizione del Festival di Musica Sacra sotto la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina e l'organizzazione dell'Associazione Cortona Cristiana. Estremamente ricco il programma di iniziative che fino a domenica 9 luglio interesserà il cortonese, a cominciare dalla messa d'inizio del festival che è stata celebrata all'eremo delle celle e animata dalla corale Zefferini. Nella chiesa di San Francesco si è svolto un momento di grande rilievo con il concerto dal titolo Altissima Luce che ha riportato il laudario cortonese nel luogo esatto dove circa 750 anni fa venne scritto grazie all'interpretazione di Paolo Fresu e Daniele di Buonaventura e l'esecuzione dell'orchestra da camera di Perugia e del gruppo vocale Armonioso Incanto diretto da Franco Radicchia. All'abbazia di Ferneta si è svolta un'altra iniziativa di particolare interesse, la presentazione del video inedito del 1974 riguardante il conferimento del privilegio di titolo abbaziale alla chiesa. Momento clou del festival sarà la notte sacra in programma sabato 8 luglio che si aprirà con la celebrazione dei Vespri nella chiesa di San Francesco alle 18.30 e proseguirà alle 21 con il concerto dal titolo Paradiso Paradiso Oratorio su San Filippo Neri, composto e diretto da Monsignor Marco Frisina per concludersi alle 5 di mattina all'eremo delle celle. La messa di chiusura del festival verrà celebrata domenica 9 luglio alle 11 nella Cattedrale di Cortona dall'Arcivescovo Riccardo Fontana e sarà animata dal coro della Diocesi di Roma.